Ma Loki 3 si farà? Questa è una domanda che si stanno sicuramente chiedendo in tantissimi dato il finale della seconda stagione, il nostro Dio dell'inganno. Quindi se siete curiosi di saperlo oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, che dire, che dire, finalmente la seconda stagione di Loki è giunta al termine e ci ha lasciato un po' sorpresi. Sorpresi perché? Perché il nostro grandissimo Dio dell'inganno ha praticamente salvato il multiverso riuscendo a trascendere nel tempo e nello spazio e diventare finalmente una divinità più in alto di tutti gli altri che riesce comunque a manipolare il tempo. Quindi, ciò nonostante nella situazione in cui è attualmente non si può muovere perché regge le fila letteralmente di tutti gli universi, c'è da dire che comunque la sua capacità di manipolare il tempo lo può rendere veramente qualcosa di divino. Il motivo per cui ora il nome che gli viene affidato è God Loki, ovvero Dio Loki. Non che prima non fosse un Dio, però adesso ha quel potere divino in più che non aveva prima. È stato un finale veramente incredibile e sconvolgente e ci ha suscitato molte domande, tipo ma Loki 3 si farà perché ad un'intervista il nostro Tom Hiddleston ha detto che questa è una sorta di conclusione per il suo personaggio e anche come serie tv si può dire che non ci sia un finale aperto e nemmeno una post credit e quindi si presume, dati tutti i tasselli che ci hanno praticamente fornito, che un Loki 3 non si farà. E quindi, ragazzi, questa era l'ultima volta che avremmo potuto vedere quel Loki in questa serie. Ho detto quel Loki perché probabilmente attraverso il multiverso lo ritireranno fuori da qualche linea temporale perché anche Codesto Loki non è il vero Dio dell'inganno che abbiamo visto negli Avengers, ovvero sì lo è, però il primo viene ucciso da Thanos all'inizio di Infinity War. Questo Dio dell'inganno è un altro Loki che abbiamo ritrovato in Endgame quando i nostri Avengers tornano nel 2012 per andare a recuperare le gemme e poi combattere Thanos alla fine. Quindi è un'altra linea temporale. E detto ciò, perché non può succedere ancora? Ovvero, perché non possiamo vedere un altro Loki in un'altra linea temporale fare una sua apparizione in qualche film futuro? Questo non ci è di certo proibito. Dato anche la domanda che tutti continuano a fare, ovvero, ma Loki e Thor si rincontreranno? E quindi una risposta l'avranno nelle prossime pellicole. Ciò che mi rende anche molto affascinato da questo finale di stagione è stato anche il fatto che può essere inteso come metafora facendo riferimento a vari avvenimenti delle scritture norrene. Infatti, in queste vi è la dea Sky che imprigiona Loki e gli mette un serpente in testa. Il sangue e il veleno di questo serpente gocciolando sulla fronte del nostro dio non fa altro che provocargli torture e dolori. C'è sua moglie che comunque mette questa bacinella per cercare di alleviargli il dolore facendo scivolare il veleno dentro di questa bacinella. Però una volta che il veleno fuoriesce perché la bacinella è piena il nostro Loki continua a soffrire. E questo può essere inteso come metafora di tutto il peso che il nostro dio dell'inganno decide di accollarsi nel finale di stagione. Perché non pensate che lui stia lì a reggere sti fili senza avere nessun tipo di dolore. Perché lui è lì, non può muoversi da lì, deve tenere questi fili. E da un certo punto di vista decide di farlo anche per redimersi di tutto il suo passato. Perché parliamoci chiaro, il nostro Loki sì è diventato un bravo ragazzo ma prima era tutt'altro che un eroe. Vi ricordiamo che nel primo Avengers il nostro dio dell'inganno ha portato l'esercito di Ketauri a New York uccidendo migliaia di persone. Migliaia di persone. E prima ancora, nei primi film di Thor non ha affatto cose buone. Quindi ragazzi, sarà anche cambiato. Però questa è una sorta di redenzione e decide lui di farla. Quindi non c'è veramente niente da dire al riguardo alla fantastica evoluzione che ha avuto questo personaggio. Che è iniziato in un modo, è finito in un altro. C'è stata una grandissima trasformazione con una redenzione sul finale che ha praticamente reso la sua stagione stand alone penso la migliore di tutto il Marvel Cinematic Universe dato tutti i problemi che stanno dando le altre serie tv. Quindi ragazzi, io voglio sapere anche voi cosa ne pensate della seconda stagione di Loki e se vi sareste aspettato una terza oppure se secondo voi fanno bene a concluderla qui. In ogni caso, in un modo o nell'altro un Loki lo ritireranno fuori nelle prossime pellicole per forza. o faranno riferimento a lui facendocelo vedere lì che regge questi fili oppure lo tireranno fuori da un'antallina temporale. In ogni caso, probabilmente tornerà. Io vi ringrazio per aver seguito questo video vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook e iscrivervi anche sul nostro canale YouTube cliccando sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Catanerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!